Chi vincerà X Factor 2018? Il concorrente favorito per trionfare durante la finale di questa sera giovedì 13 dicembre 2018 su Sky 1.Andra in onda questa sera la finale di X Factor 2018 e finalmente scopriremo chi è il vincitore. La dodicesima edizione del talent è stata caratterizzata da tanti momenti intensi, ma soprattutto da concorrenti che si sono contraddistinti per bravura e talento. Tutti, dal primo all'ultimo, i 12 ragazzi arrivati ai live di X F12 potevano meritare tranquillamente un posto nella finale del programma, ma invece, il ferreo regolamento del programma di Sky ha voluto che solo 4 concorrenti potessero giocarsi la vittoria di X Factor 2018 sul prestigioso palco del Mediolanum Forum di Asago. Naomi, Luna Melis, Anastasio e i Bowland questa sera, giovedì 13 dicembre, si giocheranno il tutto per tutto. Accompagnati da ospiti importanti come Galli, Marco Mengoni, te giornalisti e i news, i ragazzi in gara si esibiranno in tre manche e cercheranno di aggiudicarsi la vittoria di X Factor 2018. Chi è però il favorito? Se volete sapere tutte le anticipazioni sulla finale di X Factor 2018 di giovedì 13 dicembre, trovate tutto qui X Factor 2018. Finale le assegnazioni dei giudici ai concorrenti per l'ottava puntata dei live vittoria X Factor 2018 chi è il favorito? I rumors parlano chiaro il favorito alla vittoria di X Factor 2018 e senza dubbio Anastasio. Il rapper del team Under Uomini di Mara Mayonchi non ha mai rischiato l'eliminazione. Dalla prima puntata dei live di X F12 in poi, Anastasio non si è avvicinato al ballottaggio nemmeno per scherzo. Il pubblico a casa lo ha sempre premiato e portato in trionfo. Ogni sua esibizione ha lasciato sgomenti tutti e piacevolmente sorpresi. Ecco perché Anastasio è candidato alla vittoria di X Factor 2018. Ma non solo lui. Dobbiamo ammettere che la rimonta di Naomi da due puntate a questa parte spaventa molto la concorrenza. La giovane artista di Fedez ha cambiato tiro, ha iniziato ad esibirsi in modo più rete. Il pubblico ha assolutamente gradito. Potrebbe quindi vincere lei e stupire tutti. Più difficile, ma non impossibile la vittoria dei Bowlen? Anche loro non hanno praticamente mai rischiato l'eliminazione dimostrando che il pubblico li ha sempre sostenuti. Ci sono invece più dubbi sulla vittoria possibile di Luna Melis. La piccola cantante sarda di Manuel Agnelli ha infatti grinto da vendere, ma sarà abbastanza per aggiudicarsi la vittoria ad X Factor 2018.